Una coppia d'eccezione nella vita e spesso anche sul lavoro aprirà il Festival di Cannes di quest'anno. Parliamo di Penelope Cruz e Javier Bardem. Film d'apertura della 71esima edizione sarà Everybody News di Asghar Faradi, un thriller psicologico girato in lingua spagnola dal regista iraniano. La storia del film è quella di una donna di nome Laura che con la sua famiglia parte da Buenos Aires alla volta della Spagna per festeggiare una ricorrenza. Ma una volta arrivata a casa tutto viene stravolto da segreti del passato. È la seconda volta che Cannes apre con un film in spagnolo. La prima avvenne nel 2004 con la mala educazione di Pedro Almodovar.